Sara vive da sola, studia e poi lavora Sara Italiano 10, Storia 10, Comportamento 10 Sara che cammini sotto il sole, hai deciso di partire Geografia 10, Matematica 10, Scienze 10 Comportamento 9 Ridete? Sorridi? Sei il miglior padre che conosco Pure tu sei la migliore madre che conosco Quella cazzo di piscina in quella casa di merda Mamma? Sono mesi che sto fermo Mamma! Che pure il cervello non ne fa bene Ma io che ne potevo sapere che quel bambino era matto Quanto segue è ispirata a una storia vera La storia vera è ispirata a una storia falsa La storia falsa non è molto ispirata Eccovi 5 film italiani più visti al cinema dal 1950 ad oggi Quinto posto per qualche dollore in più Seguito da Continuavano a chiamarlo Trinità Al terzo posto va per un pugno di dollari Secondo posto per Ultimo Tango a Parigi E al primo posto c'è il Colossal Guerra e Pace Con la Hepburn e l'editorio Gasman Ve lo aspettavate? Fatemi sapere nei commenti E iscrivetevi al canale cliccando qui sotto Ciao da Valeria